È stato il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, a celebrare l'esequie di Monsignor Maffeo Ducoli nella Basilica di Santa Alastasia a Verona. Un uomo di fede operosa, un pastore che ha speso tutte le proprie energie per la Chiesa impegnandosi su diversi fronti, Monsignor Ducoli, per vent'anni vescovo di Belluno Feltre, diocesi che ha guidato in un delicato momento di passaggio, ma anche sul fronte diplomatico. Fu addetto all'annunziatura in Honduras, segretario di quella di Nicaragua, e sostituto di Monsignor Montini, il futuro Papa Paolo VI, in segreteria di Stato. Chi gli ha lavorato accanto lo ricorda così. Soprattutto lo spirito con cui lui è arrivato a Belluno e Feltre, allora erano due diocesi. L'idea proprio di lavorare, di mettercela tutta per portare la novità anche della sua persona, delle sue iniziative e l'entusiasmo anche delle cose che metteva in cantiere. Io che ero suo segretario dico la verità che qualche volta stentavo a starci dietro perché era un grande lavoratore. La sua esperienza maturata in segreteria di Stato lo aiutava, come dicevo prima, a programmare bene e anche a valutare le persone. Poi a livello personale lui aveva un ritmo di vita quotidiano, per cui la preghiera non era mai all'ultimo posto. Ma bisognava prima di tutto assicurare quello. In macchina, sa, i segretari magari vorrebbero ascoltare le partite di calcio o musica, invece con lui prima di tutto si recitava Rosario. Fu proprio Monsignor Ducoli a invitare il beato Giovanni Paolo II a soggiornare in Cadore, un'intuizione che ha valorizzato il bellunese a partire dalla visita del Papa nel 1979 e poi tante opere in mattoni per la crescita spirituale, la costruzione del centro Papa Luciani per la formazione della comunità diocesana, la promozione del villaggio San Paolo al Cavallino, un villaggio senza barriere per i disabili e il santuario di Maria Immacolata al Nevegal che dice la forte spiritualità mariana che animò l'azione pastorale di Monsignor Maffeo Ducoli. Ho sempre ammirato in lui l'amore che ha portato la nostra diocesi, quei vent'anni che è rimasto in diocesi, ha dedicato tutte le sue energie, le sue capacità, i suoi carismi, diciamo pure al bene della diocesi, non riservando mai nulla per se stesso. Questo mi pare che è la caratteristica fondamentale per cui noi ci sentiamo uniti a lui per il bene che ha lasciato.